Il fenomeno globale della Great Resignation sembrava non aver avuto un così forte impatto in Italia, invece alla fine neanche il nostro paese ne è rimasto esente. Infatti in Italia il 60% delle aziende è coinvolta nel fenomeno delle dimissioni volontarie, le cui 75% sono state colte di sorpresa. Alcuni dati significativi vengono dal Veneto, dove da gennaio ad aprile si sono dimesse 500 persone al giorno. In Lombardia in totale sono 419 mila nel 2021. Ulteriori dati del Ministero del Lavoro ci mostrano come nel secondo trimestre del 2021 su un totale di 2,5 milioni di contatti cessati ci sono registrate 484 mila dimissioni, ovvero un aumento del 37% rispetto al trimestre precedente e dell'85% rispetto allo stesso periodo nel 2020. Guardando invece in modo più ampio all'Occidente, da quanto emerge dal Microsoft Hybrid Work Report, il 40% della popolazione antiva occidentale è pronta a lasciare il proprio lavoro. Inoltre, secondo questo report, ad esseri più coinvolti sono i Millennials e i colleghi più giovani che faticano a sentirsi parte del processo decisorale e non sono entusiasti del loro lavoro. Ma cosa c'è dietro questo fenomeno di dimissioni di massa? Che cosa spinge le persone ad andarsene dal proprio posto di lavoro? Prima di vedere le risposte a queste domande, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche che ti avvisa dei nuovi video. Come in tutte le cose non esiste una sola causa di un problema e anche per quanto riguarda questo fenomeno non si fanno eccezioni. Le cause della Great Resinuation sono differenti, sia in molteplici. Multimedia hanno puntato il dito su cause come i salari, che sicuramente hanno una loro importanza, ma dalle ricerche, come esporremo tra breve, non sembra emergere come uno dei fattori più significativi. Il fattore più significativo infatti risulta essere un altro, una cultura aziendale tossica. Ma da dove emergono questi risultati? Che peso ha gli altri fattori? Che cosa significano in sostanza? Questo risultato emerge da una ricerca, una ricerca svolta da Donald Soule, Charles Soule and Ben Swake, che comprende meglio le cause delle grandi dimissioni, aiutare i leader a reagire in modo efficace e quindi hanno svolto questa ricerca. Il campione della ricerca era composto da 34 milioni di profili online di dipendenti con lo scopo di identificare i lavoratori statunitensi che hanno lasciato il proprio datore di lavoro per qualsiasi ragione, quindi comprese dimensioni, pensionamento, licenziamento, questo tra aprile e settembre del 2021. Inoltre, grazie ai dati forniti da un'altra organizzazione che si chiamava Reveglio Labs, se i ricercatori sono stati in grado di stimare i tassi di abbandono a livello aziendale per le aziende facendo parte della cosiddetta Culture 500, un campione di grandi aziende che insieme impiegano quasi un quarto della forza lavoro nel settore privato degli Stati Uniti. Tale analisi è emerso che i tassi di dimensione non sono uniformi nei diversi settori, come si può vedere da questo grafico. Inoltre, per comprendere i fattori predittivi alla base delle dimensioni, i ricercatori hanno analizzato ciò che veniva scritto da oltre 1 milione e 400 mila recensioni su Glassdoor, che è un sito piuttosto famoso in Internet, dove i dipendenti, gli ex dipendenti, recensiscono le aziende tramite una piattaforma di Natural Employee Language Understanding. Per ogni azienda e facendo parte del campione Culture 500, i ricercatori hanno misurato la frequenza con cui i dipendenti menzionavano 172 argomenti e quanto positivamente parlavano di ciascuno di questi argomenti. Tra i risultati complessivi è emerso che l'insoddisfazione sui salari ha una realtà, un impatto moderato rispetto a quanto si possa invece pensare, collocandosi al sedicesimo posto tra tutti gli argomenti in termini di previsione del turnover dei dipendenti. A risultare invece come il fattore predittivo più affidabile, come precursore della maggiore probabilità di future dimensioni, è stata la cultura aziendale. Per dare un'idea di quanto impatto abbia la cultura aziendale, vediamo questo elemento rapportato alla retribuzione. Una cultura aziendale tossica è di gran lunga il più forte fattore predittivo di abbandono del settore ed è dieci volte più importante della retribuzione nel prevedere il turnover che un'azienda può avere. Non so spavere dunque che le aziende con la reputazione di avere una sana cultura aziendale, tra cui South East Airlines, Johnson & Johnson, Enterprise, Renter Car e Lincoln Inn, abbiano registrato un turnover inferiore alla media durante i primi sei mesi della Great Resignation. Ma che cosa contribuisce a creare una cultura tossica? L'analisi ha rilevato che i principali elementi che portano a culture aziendali tossiche includono la mancata promozione della diversità, dell'equità e dell'inclusione, quella che poi viene definita con la cronica dei, la mancanza di rispetto, il comportamento non etico dell'organizzazione e di conseguenza anche spinge poi i dipendenti a tenere questo comportamento. Tra i tre punti, forse quello più sorprendente è il primo, il DEI, quindi abbiamo detto diversità, equità e inclusione. DEI è un termine utilizzato per descrivere le politiche, i programmi che promuovono la presenza, la rappresentanza e la partecipazione di individui diversi per età, razza, etnia, abilità, disabilità, sesso, religione, cultura e orientamento sessuale. In particolare il termine diversità pone spesso l'accento sui parametri come il numero di persone di varie etnie o identità che fanno parte dell'organizzazione. L'equità mira a garantire un trattamento equo, l'uguaglianza di opportunità e l'avanzamento di carriera per tutti, senza distinzioni o pregiudizi, cercando al contempo di identificare e rimuovere le barriere che hanno impedito la partecipazione attiva di alcuni gruppi e garantire una distribuzione equa e giusta delle risorse. Infine l'inclusione è basata su una cultura in cui tutti si sentono benvenuti e coinvolti attivamente, spinti a contribuire e partecipare alla vita aziendale. Si stima che il mercato globale delle iniziative DEI ha raggiunto i 7,5 miliardi di dollari nel 2020 e si prevede che raddoppierà entro il 2026. Purtroppo però, fino ad oggi, tutto questo impegno economico non è stato poi così ripagato. Una serie di rapporti mettono in discussione i risultati di questa spesa, compresi quelli che affermano che questi programmi sono ampiamente falliti e spesso implodono in se stessi. Il DEI, come abbiamo visto in precedenza, è un elemento che, se tralasciato, porta ad una cultura atrossica, che in sua volta porta anche a una mancanza di appartenenza da parte dei dipendenti, elemento che, come anticipato e secondo quanto conferma anche un'indagine di McKinsey, è uno dei tre motivi principali adotti dalle persone per lasciare il lavoro durante questo periodo delle grandi dimissioni. Dunque, il DEI gioca un ruolo chiave sia per la cultura tossica sia per il senso di appartenenza e tambi sono fattori critici della Great Resignation. A questo punto può sorgere una domanda. Gli sta l'importanza del DEI, ma considerando anche i suoi fallimenti di implementazione, cosa si può fare per favorirla e fare in modo che sia efficace? La soluzione potrebbe essere di fondere il mindset agile. Infatti le organizzazioni che sono davvero agile hanno già insiti molti dei principi e dei valori che servono per favorire il DEI. Ho sottolineato davvero agili perché diverse aziende o leader utilizzano l'agilità come soluzione di facciata senza esaminare le cause alla radice dei problemi e chiedendo ai membri del team di utilizzare metodi di lavoro agili senza capire perché questi metodi siano efficaci e come questi processi si relazionino ai loro problemi e alla loro mentalità attuale. In questo caso si dice che le organizzazioni fanno agile senza esserlo. Quindi non possiamo considerarle veramente agili. Come si vede se un'organizzazione è davvero agile? Beh, in primo luogo dal valore che porta al cliente e poi dal fatto che la struttura organizzativa assume delle configurazioni molto differenti dai tradizionali silos dipartimentali delle organizzazioni convenzionali e quindi infine dalla reale autonomia dei team che portano un valore al cliente finale. Se ci sono questi tre elementi si capisce che effettivamente l'organizzazione è agile poi evidentemente si vede anche dai risultati. Dopo aver quindi chiarito la differenza tra le aziende che sposano i principi del mindset agile e chi applica invece solo una metodologia vediamo i principi che sono alla base del mindset agile e che si intersecano con le iniziative dei. Il primo è un principio cardine delle organizzazioni agili la trasparenza radicale in un mondo iperconnesso con un incredibile surplus di informazioni per essere agili è necessario che tutte le informazioni siano visibili a tutti comprese le performance, compensation, gli obiettivi, l'andamento dei vari team. La trasparenza radicale include anche altri principi importanti tra cui l'inclusività. Le organizzazioni agile sono per natura inclusive poiché ogni forma di pregiudizio è altamente dannosa e involutiva. In genere queste organizzazioni ridistribuiscono gli utili coinvolgendo le persone nelle decisioni sui criteri di ridistribuzione. L'inclusività si contrappone alla estrattività tipica invece delle organizzazioni convenzionali e inoltre non ci sono posizioni organizzative prestabiliti quindi i ruoli vengono decisi di volta in volta a seconda della necessità e vengono definiti su base volontaria. Alla base dell'inclusività vi è un altro importante principio che è il rispetto. Il rispetto è intenzionale va bene oltre la tolleranza nessuno vuole che le proprie differenze siano solo tollerate. Gli esseri umani prosperano quando vengono visti e apprezzati per ciò che veramente sono. In un team agile il rispetto significa che le competenze le conoscenze, il talento, le esperienze le prospettive di ciascun membro componente del team sono rispettate e valorizzate poiché i teamagini sono auto-organizzati tutti i membri del team devono rispettarsi a vicenda per portare a termine il lavoro insieme. Un altro fattore importante è hire for attitude è importante assumere persone in cui i valori e i principi siano coerenti con quelli delle organizzazioni per cui il colloquio di sedizione è basato sul cultural fit piuttosto che sulle competenze che si possono sempre imparare di fatto. un quinto principio è il coraggio e il coraggio significa innanzitutto abbracciare l'incertezza avere la consapevolezza che la conoscenza scaturisce dall'esperienza e che le nostre supposizioni non sono sicure e dobbiamo verificarle. Ci vuole coraggio ad agire rischiare di fallire ci vuole coraggio a dire di no ci vuole coraggio a sostenere le proprie idee e prospettive ci vuole coraggio ad affrontare conversazioni che fuoriescono dalla zona di comfort. L'ulteriore principio è la sicurezza psicologica l'ambiente agile è caratterizzato da un ambiente sicuro per poter sperimentare, sbagliare imparare dagli errori crescere, evolvere, svilupparsi e confrontarsi. L'ambiente agile crea le condizioni per conversazioni rispettose anche se scomode e promuove la diversità di pensiero e contribuisce a creare ambienti in cui i dipendenti sentono che tutto il loro io compreso le loro storie le loro opinioni le loro emarginazioni è ben accettato sul posto di lavoro invece di essere valutati solo per le loro abilità. Infine, come ultimo principio abbiamo a rendere le persone straordinarie e rendere le persone straordinarie in tutti i sensi non soltanto i clienti ma anche chi lavora nell'organizzazione. L'idea di base di questo concetto era stata ben espressa da Goethe trattate un uomo per quello che è rimarrà quello che è trattatelo per quello che vuole essere e lo aiuterete a diventare quello che può essere. Tutti hanno un talento e la capacità di un'organizzazione è quella di creare un ambiente in cui persone ordinarie possono fare cose straordinarie e far crescere il proprio talento e la propria progettualità. Visti i principi si può comprendere come agile possa essere un terreno molto fertile per le iniziative dei. infatti i valori e i principi dell'agilità si sovrappongono in molti modi ai concetti di dei. Uno dei principi fondamentali del movimento agile è quello di valorizzare gli individui e le loro interazioni rispetto ai processi e agli strumenti. Ciò riflette i principi fondamentali della dei che chiede alle organizzazioni di esaminare e riconoscere i contesti e le circostanze individuali dei membri del team. Sia l'agilità che la dei richiedono alle organizzazioni di comprendere ciò che di cui le persone hanno bisogno per preparare e le costringono a verificare se il loro ambiente di lavoro è progettato per essere inclusivo ed equo piuttosto che dare per scontato che questi meccanismi esistano di default. Se agile favorisce l'inclusione la diversità e l'integrazione questo non significa che debba essere accantonate le iniziative dei durante le trasformazioni agile. Infatti il rischio è quello di dare per scontato che la dei sia implicitamente una componente dell'agilità senza però essere discusa come simbiotica con l'agilità né inquadrata come concetto centrale nelle trasformazioni agili di successo nei modi di lavorare nei risultati di prodotto o di business. Questo approccio farebbe sì che i problemi dei dei passino in secondo piano che i metodi di lavoro agili siano inefficaci e che si perdano opportunità per le aziende e i clienti come l'innovazione e l'elevato coinvolgimento dei team e la creazione di nuovi mercati. La ricerca del Business Agility Institute mostra come il 52% del campione abbia dichiarato di aver fatto parte di trasformazioni agile che non consideravano esplicitamente l'inclusione e l'equità come parte della loro trasformazione suggerendo che la vera intenzione riguardo alla dei è rara quando si tratta di organizzazioni agile. Perciò è importante che durante la trasformazione agile la leadership espliciti la volontà nel migliorare la diversità equità e inclusione all'interno delle organizzazioni. Inoltre è necessario che ai team e agli individui vengano forniti gli strumenti i metodi le competenze e l'assistenza professionale necessari per confrontarsi davvero con le loro differenze tra dei vantaggi di competenze e mentalità ed esperienze diverse. In conclusione in questo video abbiamo visto che la Great Resignation ha diverse cause alla sua origine ma che una cultura organizzativa tossica è ciò che spinge maggiormente le persone a lasciare il proprio lavoro. La cultura tossica è principalmente dovuta a tre fattori in particolare ci siamo concentrati sulla mancanza di promozione della diversità equità e inclusione diverse organizzazioni investono in grande ammontare di risorse economiche in queste iniziative con scarsi o almeno discutibili successi. Per invertire questo trend una strada può essere quella di diffondere il mindset agile e intraprendere un percorso verso l'agilità organizzativa. Se è vero che Agile favorisce il DEI e crea condizioni di equità e inclusione è importante tenere in considerazione un'avvertenza come appunto sottolinea il Business Agility Institute perché queste condizioni siano effettivamente attuate è importante durante la trasformazione agile non pensare che queste condizioni si creino come una risposta automatica alla domanda su come creare o migliorare ambienti di lavoro solidari. È fondamentale dare un peso sufficiente agli elementi come la diversità equità e inclusione anche durante la trasformazione di esplicitare la volontà e la intenzionalità nel migliorare la diversità equità e inclusione all'interno dell'organizzazione se hai compreso che Agile può creare l'ambiente e il sistema giusto per il successo delle tue iniziative day scopri di più come si diventa agile attraverso il link in descrizione Grazie a tutti